in questo numero di qui europa magazine l'unione europea rafforza il sostegno ai balcani occidentali via liberal price cap per il petrolio russo 13,5 miliardi di investimenti in ricerca e innovazione l'unione europea riafferma il suo impegno pieno e inequivocabile a favore della prospettiva di adesione dei sei paesi dei balcani occidentali e chiede l'accelerazione dell'iter sulla base di riforme credibili e di un'equa e rigorosa condizionalità è una delle conclusioni del vertice di tirana tra istituzioni e governi comunitari e i leader di albania bosnia-rzegovina kosovo macedonia del nord montenegro e serbia in particolare l'unione europea accoglie con favore la determinazione dei partner dei balcani occidentali a difendere i valori e i principi europei fondamentali in linea con il diritto internazionale inoltre l'unione continuerà a sostenere i partner nell'affrontare gli effetti negativi della guerra in ucraina sulle loro economie e società sul fronte delle telecomunicazioni nel 2023 scatterà la prima riduzione dei costi di roaming tra l'ue e i balcani occidentali in vista di una completa rimozione in seguito sono paesi vicini ormai all'europa i nostri valori hanno chiesto da tempo l'ingresso in europa e ovviamente come dovuto noi li stiamo aiutando e sostenendo in quei processi di riforma rispetto anche allo stato di diritto all'indipendenza della magistratura alla libertà di stampa che sono per noi valori necessari e fondamentali quello dei balcani occidentali a tirana è un summit molto importante in quanto da un lato si registra dei passi in avanti che seppur settoriali sono molto significativi come la firma dell'accordo sul roaming ma dall'altro si cerca di rilanciare un processo politico sia di pacificazione regionale sia di integrazione rispetto all'unione europea che è particolarmente cruciale assume connotati molto importanti vista anche la concomitanza con la crisi energetica che sta colpendo l'intero continente la prospettiva di un avvicinamento e per alcuni paesi ormai una domanda che sta per arrivare alla conclusione all'unione europea costituisce per noi una priorità politica che finalmente è stata rimessa a tema in questo vertice di tirana è stata messa a tema anche la prospettiva di un immediato aiuto da parte dell'unione europea nei confronti dei balcani occidentali con risorse economiche e dall'altro la richiesta di una collaborazione strutturata perché vengano ridotti i flussi migratori irregolari che passano attraverso quei paesi 60 dollari al barile è il tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare fissato dalla price cap coalition internazionale e approvato anche dai paesi membri dell'unione europea il meccanismo del price cap sarà rivisto ogni due mesi per rispondere agli sviluppi del mercato e sarà fissato almeno il 5 per cento al di sotto del prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi calcolato sulla base dei dati forniti dall'agenzia internazionale dell'energia per ursula von der leyen presidente della commissione europea questa decisione colpirà ancora più duramente le entrate della russia e ridurrà la sua capacità di proseguire la guerra in ucraina l'obiettivo della misura è anche quello di stabilizzare i prezzi globali dell'energia il divieto dell'unione europea di importare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi per via marittima rimane pienamente in vigore mentre il price cap consentirà agli operatori europei di trasportare il petrolio russo verso paesi terzi a condizione che il suo prezzo rimanga al di sotto del limite massimo il price cap è entrato in vigore il 5 dicembre 2022 per il greggio mentre scatterà il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi raffinati dalla commissione europea via libera al programma di lavoro di orizzonte europa 2023 2024 dotato di circa 13,5 miliardi per sostenere i ricercatori e gli innovatori in europa nella ricerca di soluzioni innovative per le sfide ambientali energetiche digitali e geopolitiche nell'ambito del più ampio programma di ricerca innovazione da 95,5 miliardi questo finanziamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici dell'ue all'aumento della resilienza energetica e allo sviluppo di tecnologie digitali di base comprende inoltre azioni mirate per sostenere l'ucraina rafforzare la resilienza economica e contribuire a una ripresa sostenibile dalla pandemia di covid 19 i fondi contribuiranno a rafforzare l'ecosistema europeo della ricerca e dell'innovazione anche attraverso una più ampia partecipazione di ricercatori e innovatori in tutta europa una maggiore mobilità e finanziamenti per infrastrutture di ricerca di livello mondiale oltre 4,5 miliardi andranno alla transizione digitale dell'ue anche per lo sviluppo di tecnologie fondamentali e per incoraggiarne l'integrazione nella vita quotidiana dei cittadini www.mesmerism.info.it